Nelle prossime puntate di Terra Amara Zuleila si confronta con Fikret e gli racconta i suoi pensieri sulla sua sfortunata vita sentimentale. Zuleila infatti dovrà affrontare l'ennesimo lutto, il marico Akan morirà proprio tra le sue braccia per mano di Betul. Una scena straziante è quella che forse non si sarebbe immaginata di vivere accanto al suo amato. Dopo il Mars Demir anche Akan muore. Così Zuleila avrà modo di pensare alla sua vita e dirà un pensiero straziante il mio scopo dice a Fikret nella vita non è di amare e di essere amato. È come se per me fosse un peccato. Fikret così proverà a rincuorarla ma non sarà facile perché Zuleila dirà ho seppellito tutti gli uomini che ho amato con un groppo in gola affermando che forse il destino le sta dicendo qualcosa magari di intraprendere un percorso diverso forse questa volta senza un uomo al suo fianco.